Attenzione, attenzione, vi ricordo che questa è la zona sorvegliata da centrale o nativa. Allontanate immediatamente dalla zona. Attenzione, attenzione, questa è un'area videosorvegliata, fermatevi subito. Attenzione, l'area videosorvegliata da centrale o nativa allontanarsi. Centrale del video davanti da lì. Attenzione, attenzione, questa è un'area video sorvegliata da centrale o nativa. Attenzione, voi due fermatevi subito. Siamo in contatto con le forze dell'ordine. Attenzione, ripeto, fermatevi immediatamente. La zona sorvegliata da centrale o nativa. Attenzione, attenzione, fermatevi subito. La zona è un'area video sorvegliata da centrale o nativa. Attenzione. Attenta, attenzione, attenzione, перед Sammy, quando le forze dell'ordine, ai tuoi yout começou al Nativa. Attenta, attenzione, 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 attenzionezi, attenzione, attenzione, attenzione la situazione di questa gamma, attenzione! Allontanate determin ovanzanarsi! Attenzione, quest'aria è controllata dalla centrale operativa, voi quattro allontanatevi immediatamente Attenzione, attenzione, dovete allontanarvi immediatamente, quest'aria è controllata dalla centrale operativa Allontanatevi subito We're trusted people